Vista con granello di sabbia, lo chiamiamo granello di sabbia, ma lui non chiama se stesso né granello né sabbia. Fa meno di un nome, questa Lacan gli sarebbe piaciuta, generale o individuale, permanente, estimero, scorretto o appropriato. Del nostro sguardo e tocco non gli importa, non si sente guardato e toccato, e che sia caduto sul davanzale è solo un'avventura nostra, non sua. Per lui è come cadere su una cosa qualunque, senza la certezza di essere già caduto o di cadere ancora. Dalla finestra c'è una bella vista sul lago, ma quella vista lei non si vede, senza colore, senza forma, senza voce, senza odore, senza dolore, è il suo stare in questo mondo. Senza fondo è lo stare del fondo del lago, senza sponde quello delle sponde, né bagnato né asciutto quello della sua acqua, né al singolare né al plurale quello delle onde, che mormorano sordi al proprio mormorio intorno a pietre, non piccole, non grandi. E tutto ciò sotto un cielo, per natura senza cielo, ove il sole tramonta senza tramontare affatto, e si nasconde senza nascondersi dietro una nuvola ignara. Il vento la scompiglia senza altri motivi, se non quello di soffiare. Passa un secondo, un altro secondo, un terzo secondo, tre secondi, però sono solo nostri. Il tempo è passato come un messo con una notizia urgente, ma è soltanto un paragone nostro, inventato il personaggio fittizia alla fretta e la notizia non umane.